ciao ragazzi ben ritrovati oggi smontiamo il pomello del cambio della citroen allora cominciamo stacchiamo prima la parte di sotto qua incastro ecco alziamo un pochettino e andiamo a staccare le prese dell'alza vetro prima il destro qui schiacciando l'apposito tastino e poi il sinistro e in più anche la presa della cinesiero grazie a tutti dopodiché per togliere il pomello basta solo tirare e girare leggermente tirate verso l'alto ed eccola qui se volete cambiare tutta la cuffia basta togliere da qui staccate gli incastri e si toglierà tutta la cuffia sotto come vedete ha una fascetta eccola qui tagliando questa si stacca il pomello ok ragazzi grazie e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.